Buongiorno, Antonio Maione, Presidente del Movimento Civico Flegreo. Insomma, Via del Mare a Licola, c'è stato un incidente stradale, paletti a terra. Cosa è successo l'altro giorno? Sì, salve. Licola, in particolare Via del Mare, nei giorni passati è stata protagonista di uno spiacevole evento, di un incidente stradale che, sebbene fortunatamente non abbia prodotto feriti gravi, avrebbe potuto avere conseguenze molto più critiche. Noi da tempo sollecitiamo le amministrazioni, le varie amministrazioni che sono succedute negli anni all'installazione dei dissuasori di velocità, affinché si possano scongiurare queste tipologie di eventi spiacevoli. Le amministrazioni che sono succedute hanno deliberatamente scelto di non agire. È una scelta che condanno, che è contrasto con tutte le mie forze. Qui a Licola, Licola che è, per il patrimonio naturale che detiene, dovrebbe essere oggetto di investimenti straordinari. A noi qui a Licola manca l'ordinarietà, manca la sicurezza stradale, manca il diserbo periodico degli arbusti e mancano, paradossalmente, le forze di polizia municipale a Licola. Non se ne può più. Nessun medico di base ha mai prescritto di fare l'amministratura locale. Se non avete voglia, se non avete volontà, non fatelo, fate un passo indietro. La sicurezza è un tema abbastanza rilevante, che va trattato con estrema serietà. Di fatti abbiamo più volte sollecitato le amministrazioni e gli enti e le istituzioni a dialogare fra di loro affinché si possano rafforzare i corpi e le forze di polizia municipale, polizia di Stato, carabinieri affinché ci sia una sinergia fra di loro, affinché si possano scongiurare questi spiacevoli eventi di micro e macro criminalità.